Questa cassetta sono tre chili fatti da Katia, Alessandro e la sua mamma. Belli, veramente belli. Faccio scorrere, faccio scorrere. Questa qua sotto è la cassetta fatta da me, è un chilo e mezzo. Belli, belli, ce ne sono alcuni veramente meravigliosi. Il tutto per quattro chili e mezzo di Roma. Oggi ci diventeremo a venderli 18 euro al chilo, chi le vuole, se no le porto a Carpiti.